Buongiorno a tutti, oggi iniziamo la lettura e prenderemo in esame un'altra opera interessante, siamo sempre nel Medioevo perché quest'anno ci concentreremo proprio su questi temi, quindi su questo periodo molto lungo, il Medioevo dura circa mille anni, dal 476 fino al 1492 e quindi ho deciso di iniziare parallelamente alla lettura di tutte e cento le novelle del Decamero di Boccaccio che ci terranno impegnati per un bel po' di tempo, siamo appena alla seconda giornata, iniziamo anche la lettura, lo studio e l'analisi di quest'opera, molti non la conoscono, che si intitola Il Novellino e Il Novellino è molto bello, molto interessante perché anticipa le novelle del Boccaccio, infatti anche il diminutivo, non sono le novelle ma Il Novellino, perché quest'opera è una raccolta di cento brevi racconti che non si possono ancora dire novelle perché le novelle appartengono al Boccaccio, è lui il padre fondatore della novella almeno per quanto riguarda in Europa, naturalmente non è l'inventore della novella perché esistevano già quelle medio orientali, tutti conosciamo le mille e una notte con Sherazad come protagonista, invece questo libro è semplicemente un raccoglitore di testi e quindi di storie molto semplici, molto brevi, che però erano già state raccontate, erano già state divulgate anche nei secoli precedenti perché qui troverete episodi biblici, episodi tratti dalla mitologia classica e medievale, molti personaggi storici realmente esistiti, pensiamo a Federico II di Svevia oppure a Carlo D'Angiò e ci sono anche personaggi biblici come il re Davide, come Salomone, ci sono anche personaggi storici dell'antichità come l'imperatore Traiano, quindi ci sono alcuni imperatori però non sono ancora così ben descritti, articolati e complessi come i racconti del Decameron perché non sono novelle ma sono brevissimi racconti talora anche di poche righe di mezza pagina in cui si racconta molto sinteticamente una storia che ha un fine morale importante perché di nuovo avremo sì il desiderio di intrattenere o comunque anche di divertire ma soprattutto c'è sempre l'intento morale. I personaggi però sono molto semplici, non vengono descritti in maniera approfondita, non c'è una profonda psicologia, anche l'ambiente spesso è messo in secondo piano, funge soltanto da cornice, quindi non abbiamo ancora una struttura, un'architettura testuale profonda e così ben articolata come sarà poi quella del Decameron e delle novelle vere e proprie. L'autore o gli autori sono anonimi perché spesso sono storie che sono già state vulgate da tempo ma che un autore anonimo ha poi deciso di raccogliere e di intrescrivere come succederà anche per i fratelli Grimm che decideranno di mettere per iscritto tutte le grandi fiabe della tradizione tedesca, così accadde per un raccoglitore che sicuramente è uno solo che poi le ha trascritte tutte. Sappiamo soltanto che fu sicuramente un fiorentino, sicuramente un laico, forse ghibellino, quindi non guelfo come Dante ma ghibellino, non sappiamo altro, non sappiamo chi sia perché è un'opera anonima e soprattutto l'autore o gli autori di queste storie forse non li conosceremo nemmeno mai. Quello di cui siamo certi è che il periodo in cui viene scritto questo libro è la fine del XIII secolo, siamo tra il 1280 e il 1300, quindi verso l'ultimo ventennio, l'ultima parte del 200. Opera per molti sconosciuta ma molto importante perché siamo in un periodo antecedente a quello di Boccaccio, questo per farci capire come le varie opere, i vari generi letterari non nascano mai dal nulla ma siano sempre il frutto di autori precedenti o di altre sperimentazioni pregresse. Questo libro tratta da quanti fiori di parlare, cioè di un certo numero di detti, di aneddoti, di storie, di brevi racconti, di belle cortesie e di bei risposi, quindi delle risposte, di belle valentie, cioè di azioni eroiche, cioè di persone, di uomini valenti e di doni, quindi di regali, secondo che per lo tempo passato hanno fatti molti valenti uomini, quindi che nell'antichità o negli anni precedenti hanno fatto uomini valorosi, degni di nota, quindi qui l'intento morale è palese e tutti questi racconti servono da exemplum, quindi anche qui avremo una tradizione che si rifà appunto al testo sacro, la Bibbia, ai fablieux francesi, ai racconti dei predicatori medievali, oppure alle storie dell'antichità classica, perché anche i miti servono per veicolare un insegnamento. Quando lo nostro Signore Gesù Cristo parlava umanamente con noi, quindi al tempo in cui Cristo era ancora vivo in mezzo a tutti gli uomini, in fra l'altro i suoi parole, tra le varie sue parole, tra i suoi insegnamenti, ne disse che dell'abbondanza del cuore parla la lingua, e qui cita il Vangelo di Luca al capitolo 6, versetto 45, quindi quando Cristo disse proprio questo, che dall'abbondanza del cuore parla la lingua, cioè noi parliamo anche in base a quello che percepiamo e a quello che abbiamo nel cuore. Voi che avete i cuori gentili e nobili, in fra gli altri, quindi si rivolge proprio a una certa categoria di persone, coloro che sono gentili, che hanno il cuore nobile. Di nuovo il concetto della nobiltà d'animo, che non ha niente a che fare con quella di nascita. Acconciate le vostre menti e le vostre parole nel piacere a Dio, quindi adeguatevi, conformatevi sia nel vostro modo di agire che di parlare, affinché possiate piacere a Dio, come dice la Bibbia, rinnovatevi e trasformate la vostra mente proprio per piacere a Dio e quindi perseguire i Suoi precetti, parlando, onorando e temendo e laudando quel Signore nostro che namò prima che Egli ne criasse e prima che noi medesimi ci amassimo, cioè prima che noi ci amassimo. Notiamo il parallelismo con il Decameron di Boccaccio, anche là nell'Incipit c'è una preghiera che viene rivolta al Santissimo nome di Dio. E perché aprire dei testi laici con una preghiera? Perché comunque l'uomo medievale è profondamente cristiano, ha una mentalità cristiana, volente o nolente, e quindi non si può non ringraziare quel creatore, quel facitore di tutte le cose che quindi avrebbe creato anche l'essere umano. E se in alcuna parte, non dispiacendo a Lui si può parlare, per rallegrare il corpo e sovenire e sostentare, facciasi con più onestà e con più cortesia che fare si puote. Quindi bisogna fare in tutti i modi, al massimo delle nostre capacità, bisogna sempre cercare di piacere a Dio, cioè di vivere secondo i Suoi precetti. Come dice la Bibbia, qui tutto preso dalle Sacre Scritture, sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, fate tutto, dice alla gloria di Dio. E a ciò che, quindi affinché gli nobili e gentili sono nel parlare, nell'opere quasi come uno specchio a poi minori, eccola qui la funzione di esempio, ma siccome i grandi sono come degli specchi presso i minori, cioè sono modelli da imitare per tutta la massa delle persone umili, comuni, mediocri, a ciò che il loro parlare è più gradito, però che esce di più delicato tormento, uscendo da un più delicato strumento, facciamo qui memoria dal quanti fiori di parlare, di belle cortesie, di belli risposi, di belle valentie, di belli donari e di belli amori. Quindi qui lui farà una raccolta di tutto quello che abbiamo appena detto, quindi di azioni, di motti di spirito, di battute e di rimproveri, di qualsiasi cosa che possa servire sempre da exemplum, affinché noi ci possiamo migliorare dal punto di vista spirituale e chiaramente per vivere bene e per vivere in una società migliore. Secondo che per lo tempo passato hanno fatto già molti e chi avrà cuore nobile e intelligenza sottile, quindi chi ha il cuore ben disposto e l'intelletto adatto, quindi chi è dotato di ingenium, si li potrà assimiliare, li potrà talmente tanto imitare per lo tempo che verrà e argomentare e dire e raccontare in quelle parti dove avranno luogo a prode e a piacere di coloro che non sanno e desiderano di sapere. Qui abbiamo una duplice finalità perché sia educativa sia edonistica, quindi raccontare serve sia per imparare qualcosa ma anche per divertire il fine edonistico, quindi per il puro piacere dell'intrattenimento, come dirà anche Manzoni, come dicono tantissimi altri, miscere utile e dulci, il vero per scopo ma il divertente come mezzo. Davvero raccontare salva una vita umana, ci serve perché anche questo libro veicola tutta una serie di insegnamenti, di riflessioni e di pensieri molto saggi che ci trasmettono i nostri antenati e che anche noi possiamo imitare, che possiamo mettere in pratica, su cui possiamo riflettere proprio per costruire una società migliore, quindi la letteratura è davvero importante e sarebbe sempre da implementare in tutte le scuole perché non è arida, non va imparata a memoria, ma deve servire per sviluppare lo spirito critico altrimenti non serve a nulla e se i fiori che proporremo fossero mischiati intra molte altre parole, se fossero mischiati con tante altre parole non vi dispiaccia, eccolo qua di nuovo, perché il nero è ornamento dell'oro e per un frutto nobile delicato piace talora tutto un orto e per pochi belli fiori tutto un giardino, quindi magari non saranno tutti piacevoli oppure non ci piaceranno tutte le parole che l'autore ha messo dentro, ma non importa, non devono piacermi tutte le cose che stanno in un giardino ma soltanto alcuni fiori, cioè basta un esempio per colpire l'animo umano, davvero un'immagine molto bella, non gravi a leggitori, cioè non sia pesante per il lettore perché sono stati molti che sono vivuti grande lunghezza di tempo e in vita loro hanno appena tratto uno bel parlare o ad alcuna cosa da mettere in conto fra i buoni. Non dobbiamo assolutamente ritenerli dei racconti pesanti perché ci sono state persone che sono vissute per molto tempo e hanno avuto modo di mettere in atto anche soltanto uno di questi insegnamenti, ma questo è bastato per renderli comunque in conto tra i buoni, cioè per renderli delle persone migliori, quindi veramente la letteratura ha anche una potente funzione sociale perché la letteratura educa e ducere, significa tirare fuori, ci tira fuori il meglio di noi, ci tira fuori la nostra umanità, quella che noi stiamo perdendo, non diventiamo dei robot, tiriamola fuori di nuovo, ci siamo dimenticati di essere umani, non siamo delle macchine, torniamo a guardarci in faccia, torniamo a buttare via, spegnere due o tre ore quel telefono, quando siete a cena con la fidanzata, guardatevi negli occhi, baciatevi, godete la vita, or che è il bel tempo, come ci dicevano i nostri antichi, come ci raccontava il grande Lorenzo de' Medici. Inizieremo a leggere anche i singoli episodi perché sono molto semplici e cercheremo anche qui di trarne dei benefici per nostra comune soddisfazione e soprattutto per essere persone migliori. Spero che vi possano piacere perché sono poco noti, ma io penso che possano piacere e che siano anche molto interessanti da riscoprire perché ognuna di queste opere è una fotografia che può gettare nuova luce sul nostro passato. Alla prossima!